E cari amici, cari amiche, eccoci qui. Oggi ci troviamo dal salone di Filippo Matalone, noto acconciatore a E-Style sia uomo che donna e con grande piacere stiamo assistendo con quale armonia e con quale professionalità si svolge una giornata lavorativa. Qui ovviamente troverete tutto ciò che riguarda il mondo dell'E-Style. Noi ne approfittiamo, salutiamo anche tutto lo staff che con grande piacere, con grande professionalità tende a imparare quello che è il mestiere dell'E-Style e noi ne approfittiamo anche per salutare il nostro Filippo che è sempre pronto a prendersi cura delle proprie clienti. Un saluto anche dal nostro Filippo e mi raccomando vi aspettiamo sempre qui da Filippo E-Style.